Il campionato degli italiani Il 2015 si chiude con il botto di fine anno Buonasera dello studio di TV6 Le Pescara e Spugna Latina Quarta vittoria consecutiva Quarto posto in classifica Ad un solo punto dal terza posizione Grande entusiasmo per i tifosi Le Pescara anche alla luce Degli altri risultati Non poteva esserci chiusura migliore In un anno solare che ha regalato Grandi soddisfazioni Peccato per quella traversa di Bologna Del giugno scorso ma un girone di andata Che si chiude con la squadra di Oddo In piena zona promozione Parleremo di quest'annata E anche delle prospettive Per il 2016 con i seguenti ospiti Vado a salutare il collega Paolo Renzetti Buonasera Paolo Ben ritrovato Grazie Al suo fianco abbiamo il piacere Di ritrovare il direttore sportivo Giuseppe Tambone Buonasera Giuseppe Grazie per essere qui in studio Un altro volto noto Il dirigente sportivo Riccardo Clinco Buonasera Riccardo Chi ha titolato 37 punti Tanta roba Alla mia sinistra ritrovo con piacere Giovanni De Palma Il meteorologo che tutti conoscono in Abruzzo Buonasera Giovanni E poi il piacere di ritrovare anche Vincenzo Cilli di Pegasus Buonasera Vincenzo Buonasera Enrico Grazie a te Andiamo in regia dove questa sera Andrea Costantini Che saluto ci proporrà diverse novità Buonasera Andrea Buonasera Enrico Dici bene L'ultima puntata del 2015 di Replay Peraltro il Pescara sta attraversando un ottimo momento Allora Replay vuole omaggiare i tifosi, i telespettatori E lo fa con la novità degli ultimi giorni Che riguarda la nostra emittente C'è la possibilità di interagire con noi attraverso Whatsapp Il numero lo vedete in alto Si alternerà con gli altri modi per interagire con noi 342 98 94 630 E il nostro numero Whatsapp E noi invitiamo i nostri amici telespettatori a casa Non solo a scriverci per fare considerazioni, domande, osservazioni Ma anche a inviarci delle foto, delle immagini Che siano attinenti al bel momento del Pescara O magari dei selfie mentre stanno vedendo la trasmissione Replay Perché alla fine della trasmissione la foto più bella, più simpatica A discrezione degli ospiti che sono in studio La foto più bella o simpatica sarà premiata Come? Regalando a chi ha inviato quella foto Tagliando un biglietto di Tribuna Maiella Per la prossima gara interna del Pescara La ripresa del campionato contro il Livorno Quindi scriveteci, mandateci foto, immagini, selfie Che siano attinenti al bel momento del Pescara E uno di voi sarà premiato appunto Con un biglietto per Pescara Livorno Restano intatti gli altri modi per interagire con noi 085 93 0020 per prenotarvi telefonicamente Oppure i messaggi, gli sms più tradizionali Al 392 623 7060 Poi parleremo anche di altro Enrico, ci sono panchine roventi in Serie B Ma al momento non ci sono movimenti ufficiali Diamo le ultime notizie per quanto riguarda le panchine Probabilmente del Bari e della Salernitana Perché Livorno sembra aver confermato Mutti Allora, il Livorno sembra aver confermato Mutti Almeno siamo alle parole pronunciate ieri dal presidente Spinelli Dopo la gara con il Livorno Per quanto riguarda il Bari Sembra segnata la sorte di Davide Nicola Tanti nomi sul taccuino di Paparesta Tra questi c'è anche il pescarese Andrea Camplone Ma i nomi più forti sembrano essere Quelli di Eugenio Corini E soprattutto, forse una suggestione, forse no Filippo Inzaghi Sul taccuino c'è anche Alessandro Calori Che però è più indietro Ma l'ultimo nome, quello più caldo È quello di Filippo Inzaghi Anche Torrente sembra a rischio Ma potrebbe proseguire la sua esperienza Sulla panchina della Salernitana L'ultimissima, appena rilanciata Dal sito di Gianluca Di Marzio Ci sarebbe un'intesa di massima Tra la Juventus e il Genoa Per il giocatore Oral Pescara Rolando Mandragora Giudicato il 97 più forte Al momento in circolazione Le parti e anche il procuratore Vincenzo Pisacane Si incontreranno nei prossimi giorni A te Sì, allora aggiungiamo le notizie Inerenti al Pescara Una è già nota Perché dal Brescia Arriverà quasi sicuramente Il centrocampista marocchino Ecmedat, classe 95 Che la Roma sta acquistando Per girarlo in prestito al Pescara Operazione che sarà ratificata Anche con il riscatto Da parte del difensore Crescenzi Il terzino Mignanelli Invece torna al Reggiana Dopo il prestito estivo Oggi sono state rese note Anche le squalifiche Della giornata di ieri Memushai Un turno di squalifica Allora Un 2015 che si è chiuso in bellezza Abbiamo titolato Il botto di fine anno Ed è stato Sì, un botto Giuseppe che Tutti aspettavamo Perché Quattro vittorie consecutive In questo momento Di chiusura Del girone d'andata Sono sicuramente Tanta roba Come direbbe Riccardo Clinco Poi ci sono stati Anche i risultati di ieri Che hanno reso La giornata Ancora più bella Allora Se dovessimo subito Dare un Un aggettivo A questo Girone d'andata Del Pescara Tambone Quale aggettivo Userebbe? Sicuramente Un aggettivo Che denoti Positività Un Pescara Non sorprendente Perché Credo che Chi Conosceva bene Di che pasta Era fatta Questa squadra Questi ragazzi Qualcosa si poteva Aspettare Forse A livello Di gioco Di prestazioni In alcuni momenti Anche spumeggiante Spumeggiante Pensiamo allora L'aggettivo Spumeggiante Probabilmente Riccardo Clinco L'aggettivo Per questa Oggi è andata Non vi siete preparati Quindi No Devo dirti Che con l'inserimento Di Ugo Campagnaro In difesa La difesa Adesso è quadrata E quindi Gioca molto bene E Di conseguenza C'è un Bell assetto Una bella squadra Mi sta piacendo molto E devo dire Che il nostro Anattore Sta facendo Veramente un bel lavoro Paolo Io L'aggettivo Vorrei dare un voto Visto che Anche più semplici Direi un otto e mezzo pieno Un otto e mezzo Etto e mezzo pieno A Pescara Che Tra l'altro Tra l'altro Se non mi sbaglio Chiude Ha chiuso quest'anno Il giorno d'andata Con solo Con due punti Meno del Pescara Di Zeman 39 Contro 37 Direi che Per Per la squadra Che Quest'anno È cambiata Per dimesso Undicesimi Ricordiamo Paolo Negli ultimi tre Campionati di B Con Pasquale Marino 34 punti Perché si perse L'ultima in casa Con l'Empoli Un voto Un aggettivo Per questo Giro d'andata Io se torno indietro Alla primo settembre Quindi alla chiusura Del calciomercato Don Posso definire Il Pescara Piacevolmente Inaspettato Se Già guardando Comunque Le prime partite Con Grazie al nostro Mister Massimo Oddo Sicuramente Un ottimo Pescara Io darei Un 9 Alla società Perché a proposito Del calciomercato Non dimentichiamoci Le critiche Pievute addosso A questa società Dopo le cessioni Di Bjarna Sono Melchiorri Ipolitano E tutte le altre Quindi Una società Che è stata in grado Di comprare Calciatori Ripienare I conti Economico Finanziari E dare la possibilità Alla nostra città Di offrire Uno spettacolo Del genere Quindi Veramente Un 8 Ma io direi Anche un 9 Giovanni Io pure Dò un bel 9 Al Pescara Perché per quello Che ha fatto Per quello Che ha dimostrato Soprattutto In questa prima fase Di campionato Sia per quello Che ha fatto La società Come diceva Paolo Giustamente Abbiamo lasciato Non do il 10 Perché abbiamo lasciato Dei punti Ovviamente In maniera assurda Ma io li chiamo Peccati di gioventù Perché la squadra è giovane Ovviamente abbiamo commesso Degli errori Di poco Così Peccati di gioventù Tra poco Vorrei sentire da voi Quali sono stati Appunto i momenti migliori Gli aspetti Più positivi Le negatività Perché c'è sempre Qualcosa che non gira Altrimenti il Pescara Sarebbe al posto Del Cagliere Però Sentiamo Il tecnico Oddo E Sebastiani Come valutano Questa posizione Con 37 punti 37 punti Secondo me Sono veramente tanti Viste le premesse Sono tanti In generale Ma considerando Il fatto Che siamo una squadra Costruita Sulla base Di tanti Tanti giovani Con tante Difficoltà Come Campagnaro Che non ha potuto Giocare tanto Quindi Questi vecchietti Che si mettono A disposizione Di giovani E considerando Il fatto Che è una squadra Completamente nuova Rispetto all'anno scorso Ci sono un paio Di giocatori Due o tre Giocatori Titolari Che hanno sempre Giocato Io credo Che abbiamo fatto Qualcosa di Speciale Ma non ci dobbiamo Accontentare Ma io me l'aspettavo Perché ho sempre detto Che questa squadra Avrebbe meritato Anche qualcosa in più Per quello che ha fatto Questa è una squadra Forte È una squadra Di tanti giovani Ma giovani forti Se noi giochiamo Palla a terra Penso che ce ne sia Per pochi Perché la palla Nascondono È chiaro Che le squadre Giovani Pagano dazio Non a caso Avevamo messo In questa squadra Alcuni elementi Un po' più maturi Che sono quelli Che danno una mano E dimostrano Che il giusto mix Tra meno giovani E giovanissimi Bravi si può fare Sono contento Per la maturità Che sta assumendo Questa squadra Perché in campo Adesso è una squadra vera Che sa soffrire Perché c'è da soffrire Su tutti i campi Però nei momenti Di difficoltà Viene fuori la grande Giuseppe Allora Oddo ha detto Stiamo facendo qualcosa Di speciale Mentre Sebastiani Ha detto La squadra Una squadra forte Il Pescara Me lo aspettavo Tu ti aspettavi Questo giorno di andata? Credo che Guarda Io dall'inizio Avevo Ero stato molto Molto contento Avevo dei segnali positivi Innanzitutto Perché è vero che Il Pescara Aveva operato Rinnovando parecchio Rispetto all'anno scorso È vero che sono Arrivati ragazzi Prevalentemente giovani Che quindi In qualche maniera Lo scotto Dell'inesperienza In qualche maniera Te lo presentano Te lo fanno scontare Però La qualità Che ha questa squadra Credo che sia Tra le prime 3-4 Del girone Quindi sia Oddo e sia Sebastiani Abbiamo pagato Dazio All'inizio Peccato di gioventù Ora sta uscendo Sì ma Credo che Il Pescara Abbia fatto Un percorso Scontato Nel senso Di alternare In un certo momento Del campionato Di questo girone Sembrava veramente Andasse in altalena Tre partite Che ti davano Dei segnali Esaltanti Poi le successive Due Segnali preoccupanti Oppure All'interno Della stessa partita Dimostrava di essere Molto forte In alcune cose Molto fragile In altre Credo che sia Scontata La vera incognita Tra virgolette Di questa cosa Poteva essere Guardandola dall'esterno La guida tecnica Perché avevi Sostanzialmente Affidato una squadra Prevalentemente Giovane Perché L'età media Del Pescara Fatta forse Eccezione La partita Con Il Lanciano Ma tutte le altre Si è mantenuta Sempre tra i 23 E i 24 anni Era un'incognita Proprio perché Oddo non aveva Sì sì No dico Hai messo Una squadra Con tanti giovani In un campionato Molto competitivo Molto difficile Con grandi attese Perché comunque La squadra Che l'hanno prima Per un pelo e per un palo Non era andata in Serie A E l'avevi affidata Ad un allenatore Che aveva fatto bene E che doveva Diciamo Confermarsi In una maniera diversa Perché mentre prima Oddo era stato Un grandissimo Aveva avuto Un impatto clamoroso Cioè il campionato All'inizio Gestendo un gruppo Che già c'era E che quindi A cui lui doveva Dare pochi cambiamenti Quest'anno A questo ragazzo Gli è stato affidato Il compito Di rifondare una squadra Di dargli un gioco Una mentalità E credo che Quest'incognita Dalle prime partite E' stata scomparsa E' rimasto sorpreso Dal lavoro di Oddo Tu Riccardo Guarda Secondo me Lui sta facendo Veramente un buon lavoro Perché Tutte le persone Che lui chiama Si fanno sempre A trovare pronte Quindi vuol dire Che c'è un lavoro Nel senso che Difficilmente Lui mette in campo Qualcuno Che Disattende Quello che gli dice Il mister Il discorso Dei quattro reparti Ha messo Ai due portieri Che sembrano Non intercambiabili Dell'altro E poche squadre Hanno questa fortuna Vuol dire Che abbiamo Un portiere di riserva Che un portiere titolare E quindi abbiamo Veramente La parte Diciamo Difensiva Molto forte Con il discorso Di Campagnaro Che era quel giocatore Di esperienza Perché la difesa E' stata sempre criticata Ma ti sto dicendo La difesa Sempre criticata Io sono stato forse Il primo a criticarla Adesso con Campagnaro Vedi come gioca bene Neanche Zuparici Perché forse E' più tranquillo Gli esterni Giocano molto bene Ho visto bene A Trescenzo Sono un po' Tresciuti tutti I numeri dicono Che con Campagnaro Abbiamo fatto Sette partite giocate Sette vittorie Ma soprattutto Abbiamo subito Un gol Su sette partite Il centrocampo Che è il fultro Del gioco Abbiamo un Benalì Che per me E' un giocatore Di categoria Superiore Perché come lo dicevo L'anno scorso Di Politano Ha delle qualità Veramente eccellenti E il nostro allenatore È riuscito Secondo me A fare un bel mix Di cambiandolo ogni tanto In certe partite Ha messo dentro Ha avuto il meglio Un po' da tutti Ha avuto il meglio Un po' da tutti Davanti abbiamo E termino Questo cocco Dopo parliamo solo Di cocco Paolo Di Oddo Invece Una sorpresa Una conferma Ma una conferma Perché comunque Alla vigilia C'era anche un po' di scetticismo Perché lo scorso anno Oddo era subentrato Alla vigilia Dell'ultima giornata Non aveva nulla da perdere Perché era Una situazione Anche abbastanza Particolare Quest'anno invece Oddo era Era L'allenatore del Pescara Dalla prima giornata Era chiamato a fare bene Era chiamato A confermare Per certi versi Quello che aveva fatto Di buono Lo scorso anno E alle vigilia C'era Della stagione C'era anche un po' di scetticismo E invece Oddo ha risposto Con i fatti Facendo giocare bene Questa squadra Facendo Facendo andare avanti Il Pescara Pian piano Facendolo crescere Con il passare Delle giornate E ora Con il quarto posto Sicuramente Si possono fare Discorsi diversi Considerandolo Diceva anche il presidente Sebastiani Nell'intervista Che c'è anche il rammarico Di aver perso Qualche punto per strada Vincenzo e Giovanni Avrete anche Seguito che ci sono state Delle critiche Da parte Dei soliti Leoni Da tastiera Verso il tecnico Bianco-azzurro È normale Che non può piacere a tutta All'inizio qualcuno Diceva anche Che era troppo Presuntuoso Però Poi il campo Come giustamente Diceva Paolo Non aveva nulla da perdere Ma aveva invece Moltissimo da perdere Prendendo le redini Di questa squadra Dall'inizio Del campionato Perché appunto A proposito Dei vioni Da tastiera Io Se la memoria Non mi inganna Quanti tifosi Del Pescara Quanti commentatori Dei vari siti Di internet Indicavano Zeman Come sicura Ancora di salvataggio Come Diciamo che la maggior parte Era a favore di Oddo Però erano Tanti Quelli che Invece Oddo Io non Mi dimenticherò mai Perché come tu sai Lavoro permettendo Ogni tanto Mi diletto E mi diverto Ad andare a assistere Agli allenamenti Non Mi ricordo ancora Le prime parole Di Massimo Oddo Al primo allenamento Dello scorso anno Quando prese in mano La squadra Disse Ragazzi Tanto Altra caratteristica Di Oddo Perché oltretutto Oltre ad essere Un bravo allenatore E anche un ottimo Comunicatore Non buttate via la palla Palla a terra Perché voi siete bravi Avete soltanto bisogno Di essere stimolati Incoraggiati Di riprendere Convinzione Dei vostri mezzi Giovanni Esatto Io sono d'accordo E dico che Il mister Ha anche Tu dicevi Che era stato criticato Di essere un po' Presuntuoso Anzi Per quello che ho potuto notare Che molte volte Riusciva anche Ad ammettere i propri errori Davanti a Puglio Ho sbagliato Colpa mia Cosa che fanno in pochi Esatto Cosa che fanno in pochi Questa è la caratteristica Ma poi soprattutto Anche il fatto Che lui è riuscito Riesce a far sentire Tutti i giocatori Tutti utili Nel senso che Tutti i titolari Ecco questo Come dicevo giustamente Anche E questa è la caratteristica Come il portiere Assolutamente E poi Io sono stato portiere Quindi so cosa vuol dire Quando vieni messo in disposto Ecco Giuseppe La scorsa settimana Il presidente Sebastiani Ha detto che All'inizio del campionato Lui al mister Gli ha detto Soltanto poche parole Cioè Gli ha detto Cerca di fare meglio Di Oddo Sì Ma credo che il progetto Sia sia questo I tempi chiaramente Devono essere maturi Devono È necessario Sono maturi secondo te i tempi? A crescere tante componenti Io credo che il prossimo mercato Potrà Potrà dircelo E potrà dircelo Non perché La squadra Verrà sostanzialmente ritoccata Ma perché Darà Credo il segnale Da un lato Di un Di un progetto Che prevede La conferma Di questo gruppo Che sta facendo benissimo E dall'altro Credo che Se non si toccano Le pedine più prestigiose Allora Si punta in alto E dall'altro Credo che questo Possa essere un mercato In cui La società Possa consolidare Anche dal punto di vista Economico patrimoniale La Diciamo Le proprie solide Fondamenta Perché poi Trovarsi a giugno E andando A rincorrere Premi di valorizzazione Di qua e di là Potrebbe essere complicato Però facendo Un bel lavoro Adesso nel mese Di gennaio In questo In questo mercato Un lavoro Non da Trasferimenti In Grecia Spiegaci Cosa faresti tu Presidente del Pescara Oggi Ma io Se fossi Presidente del Pescara E avessi Diciamo Da gestire Questo tipo Di situazione E ho All'interno Di una serie B In cui I valori Sono 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 Molto Elevati In una serie B Molto difficile Però un gruppo Come questo Di ragazzi giovani Di grosse prospettive Io farei forse qualche operazione Di Ricessione No io farei qualche Cessione anticipata Tenendoli fino a fine anno In modo da assicurarmi Una solidità E una tranquillità Da qui a giugno Per la gestione Farei qualche altro investimento Magari da qui a 12 mesi 18 mesi Con qualche altro Ragazzo Magari anche in questi scambi Operazione Mandragora Per esempio E poi Chiaramente Questo a prescindere Dalla categoria prossima A prescindere Dalla categoria E poi indubbiamente Guardare Che cosa può servire Per far fare Il salto di qualità Perché L'errore che si fa Molto spesso Quando si vince Un campionato Si punta a vincere Un campionato E che la squadra Diciamo L'attività La svolge In funzione Dell'obiettivo Vinco il campionato Ma dopo Che succede Il difficile Diviene dopo Per esempio Una cosa rapidissima Il Cagliari Ma i tifosi Che ci stanno ascoltando Che hanno il terrore Di questo mercato Di gennaio E stanno pensando Mamma mia Tu mi hai chiesto Che faresti Se fossi Se fossi Non fa bene Sì No perché Mi pongo anche Come mentalità In quest'ottica Il Cagliari Il Cagliari Attualmente Ha due squadre Di serie B Rastelli Li può girare Come vi pare Perché c'ha Due squadre Praticamente Però mi pongo Il problema Vinci il campionato Bene Il primo di luglio Quanti di questi Trenta giocatori Che hai Tutti Ottimi giocatori Per la serie B Puoi tenere Nell'ottica Del tuo progetto Serie A Che è il progetto Di una neopromossa Che deve anche Fare i conti Con una gestione Più dispendosa Eccetera Ragioneremo Gli era un po' Differente Da Giuseppe Nel senso che Io non cederei Nessuno adesso E lo terrei Fino a fine Campionato Perché tutti Dice attenzione Precisiamo Cedere a giugno E tenerli E confermare Il blocco Se è possibile Migliorarlo Ma patrimonialmente Se capita Esatto Però poi capita Sempre che E ti faccio un nome Torreira Che quando tu Lo cedi prima Poi lo perdi E perché Per tanti motivi Perché tanto Sa che va via Perché io onestamente Chiaramente Poi se stiamo facendo Un discorso Di patrimonialità O economico Forse non sono neanche All'altezza Per poterlo affrontare Però Da gestore Di una squadra Io onestamente Queste cessioni Quindi cambierebbe La testa del giocatore? Secondo me sì Sia del giocatore E sia anche Magari dell'allenatore Che sa che comunque Non ce l'avrà Invece ti voglio dire Un'altra cosa Io onestamente Visto come stiamo giocando Non farei Grande operazioni di mercato Non è obbligatorio cambiare È obbligatorio Magari Confermare Parlando di Cocco Volevo terminare questa cosa Che a me è piaciuto molto Il fatto che Comunque Il nostro allenatore Treda in Cocco Perché Cocco Ha delle caratteristiche Tu credi in Cocco? Assolutamente sì Questo l'hai sempre detto Io l'ho sempre detto Perché Cocco Ha delle caratteristiche Che a questa squadra Mancano E con Cocco Puoi fare degli schemi Differenti Con lui in campo E quindi Mi dispiace Perché è anche Sfortunato Sto ragazzo Perché comunque Sto vedendo anche I messaggi di tifosi Che continuano a dare fiducia A Cocco Sì perché comunque Lui si impegna in campo E con Cocco in campo La Padula gioca molto bene Perché gli fa molto spazio E ti dico di più È anche sfortunato Perché ha preso un palo interno Ha fatto un gol Che comunque era fuori gioco Ma il gol l'ha fatto Il ragazzo c'è So che tra l'altro Ha fatto gruppo con gli altri Non è un personaggio astratto Come poteva essere Drosso quando è andato all'Inter Che era un personaggio astratto Pur essendo Drosso Quando è andato all'Inter Era un personaggio astratto Perché adesso ci ti trai tanti Proprio Drosso L'Inter ne ha avuti Ne ha avuti Ne ha avuti i personaggi astratti L'Inter è proprio Drosso Se trovo benissimo Te lo dico Perché io sono andato Alla festa dell'Inter Quell'anno E c'era Drosso Che era un personaggio astratto Tutti parlavano fra di loro E lui era abbastanza separato E invece Cocco Non è così Cocco è un giocatore All'interno del gruppo E io credo fortemente Paolo su Cocco Che ci dici? Ma io Diciamo che La vedo in maniera diversa È chiaro che l'impegno Non è mai venuto meno del ragazzo Però se a gennaio Parlando di mercato Si vuole fare il salto di qualità Io credo che il Pescara Debba fare due operazioni Prendere un attaccante Un altro attaccante E cedere ovviamente Cocco E prendere un difensore Ovviamente Dando per scontato Le conferme Di tutti quei giocatori Che hanno fatto benissimo Diceva giustamente Giuseppe Vendere anche qualcuno E tenerlo fino a giugno Però vendere oggi Un giocatore Ti permetterebbe Di prendere Determinati soldi Venderlo a giugno Quando questo giocatore Ha fatto altrettanto bene Il giorno di ritorno E posso riferire alla padura Significherebbe Monetizzare ancora di più La cessione Tanto per fare qualche nome Non sei d'accordo Giuseppe Il mercato non ha le leggi scritte Però tu adesso avresti sei mesi Se non un anno di tranquillità gestionale E questo credo che prendere adesso Vendendo bene Non svendendo adesso Chiaro che se adesso Quanto vale la padura Adesso non puoi Il valore dei giocatori Dipende molto dal mercato 5 milioni può essere Giusta? Sì ma in questo primo step Se proprio così come impressione Farei una cessione in comproprietà Per mantenermi io qualcosa Una scommessa in questo ragazzo Magari ecco il discorso Fare in partnership Con una grande squadra Che te lo tiene sei mesi Un anno e mezzo Ci continui a lavorare Perché è un ragazzo Che sta crescendo Al di là del gol che ha fatto Si è calato bene Nella realtà Ma secondo me è ancora Un ragazzo che può crescere Ancora Oggi si può valere 5 Però a giugno potrebbe valere 8 Il mercato Lo so Il mercato Il punto interrogativo Può riguardare sia un verso Che l'altro Però se tu devi programmare E adesso hai per ipotesi 5 in cassa Ma se ce lo teniamo qui Per il prossimo anno Dove essere reato Sì ma di fatti No io parlavo del discorso patrimoniale Non del discorso di cessione Di prendere giocatori Anche per il prossimo anno Potrebbe essere La squadra che l'acquista Lo lascia un anno e mezzo Non è facile Però io Per quello io ti dicevo Fai un discorso Di comproprietà Ci fai una scommessa Tu Ci fa la scommessa L'altra grande squadra Continua magari a giocare con te Quindi conosce l'ambiente Ha un impatto Cioè sono tante le soluzioni Però Su Cocco invece Giuseppe Perché Riccardo dice una cosa Paolo un'altra Cocco è un giocatore Secondo me importante Per questa squadra È un giocatore che forse Ha avuto Non un impatto eccezionale Non tanto sul gruppo Ma sul gruppo inteso Come situazione tecnico-tattica Perché non stava bene È un giocatore che Non è un brevilinio Quindi perde Perde la preparazione Poi sicuramente Ha avuto degli strascichi Con il trasferimento All'ultimo secondo Questo non ce lo nascondiamo È rientrato in squadra Si è trovata una squadra Che oramai Nell'emergenza Che non c'era Cocco Che era il giocatore Destinato a giocare lì Aveva imparato Anche attraverso la Padula A giocare in una maniera diversa E si trovano bene Si è sacrificato Di giocare E adesso Aveva impostato la squadra Su Cocco Non dimentichiamo Perché se non fossero arrivati I gol di la Padula e Caprari Oggi probabilmente I sé non contano nel calcio Però questo eccessivo Buonismo su Cocco Cioè deve essere anche motivato Perché ripeto Buonismo da parte di chi Paolo? Da parte di tanti Perché ripeto Se non fossero arrivati Vabbè ma lì decide Oddo Non è che decide perché Il tifoso Ripeto Se non fosse esploso la Padula Se non fosse tornato a segnare gol Con una certa consistenza Caprari Se non avesse segnato Sette gol e Memushai Pescara oggi dove si troverebbe Ho capito Paolo Però il discorso Il discorso che Anche come modo di giocare Abbiamo proprio sentito L'ho fatto Paolo Renzetti Ieri a Latina Il tecnico del Pescara Massimo Oddo Proprio su Cocco Peraltro Ti dico anche Che sono arrivate le prime immagini Abbiamo mandato in onda Alcuni messaggi Whatsapp Continuiamo a ribadire Ai telespettatori Che questa sera Replay mette in paglio E regala un biglietto Per la tribuna Maiella In occasione di Pescara Livorno Quindi inviateci Le vostre foto Che abbiano attinenza Con il momento del Pescara La foto più bella Sarà premiata Alla fine della trasmissione Con questo tagliando Quindi inviateci le vostre foto Allora sentiamo il contributo su Cocco E poi sentiremo anche Vincenzo e Giovanni A proposito di Labiali Dalla tribuna Al momento della sostituzione di Cocco C'è stato uno scambio di battute Fra lei e il giocatore del Pescara Cosa vi siete detti? No, gli ho fatti i complimenti Per quello che aveva fatto Basta Che abbiamo visto Che ha buttato la giacca della tuta Cocco in panchina Evidentemente Forse era un po' arrabbiato Per la sostituzione Anche se dolorante al ginocchio È una cosa positiva Se un giocatore esce E si arrabbia Vuol dire che O sapeva di poter fare di più O è arrabbiato Perché vorrebbe giocare Tutte le partite 90 minuti Ma questo capita a tutti i giocatori C'è stato uno scambio di battute C'è stato uno scambio di battute C'è stato uno scambio di battute Qual è il vostro pensiero? Guarda Io sono perfettamente d'accordo Con quello che diceva Giuseppe Sono un aziendalista anch'io Anche se lui è aziendalista Paolo è da solo questa sera Non è da solo Non dimentichiamoci anche Non tralasciamo un aspetto importante Cioè Cocco sotto l'aspetto economico È stato il maggiore investimento Cioè la Pescara Calcio La società ci ha puntato moltissimo Hai preso il capocannoniere dell'anno scorso Eh certo Anche se poi negli anni precedenti Cocco però non è che avesse segnato Ogni anno 19 gol Però lo scorso anno è stato il capocannoniere Quindi io Pescara Calcio Ci ho creduto talmente tanto Però anche in questo Paolo sicuramente ha ragione Perché i fatti sono questi Dobbiamo ringraziare la Padula e Caprari Che hanno segnato Altrimenti Numeri nel calcio qualcosa contano Il calcio non è una scienza esatta Però insomma i numeri sono importanti E infatti io credo che due aspetti Vandano presi in assoluta considerazione Quindi lo terresti a gennaio? Assolutamente sì Nella maniera più assoluta Assolutamente sì Anche perché insomma ha dimostrato Io lo paragono in piccolo Chiaramente a Geco della Roma Anche la stessa Roma su Geco Ha investito moltissimo Però lo stesso calciatore Non è che ha fatto tutti questi sfracelli di gol Ma sicuramente è stato utile Alla causa della squadra Per quanto riguarda il Pescara Io credo che l'aspetto del bilancio Sia fondamentale Lo so che questo discorso a molti tifosi Magari non piacerà Ma purtroppo per una gestione Di una società sportiva calcistica Come Pescara E sappiamo che la società Non è dotata di questi grossi Mezzi finanziari Non è semplice E non credo neanche Quando si parla di progetti I progetti in genere durano un anno Ecco perché Giuseppe Dal mio modesto punto di vista Ha perfettamente ragione Oggi Facciamo nome e cognomi Se la Juve comprasse la Padula A 5 milioni di euro E me lo fa rimanere a Pescara Ma magari L'ha fatto con Zazza? Al Sassuolo Magari Potrebbe farlo con te Vorrei dire che se io sono bravo E in questo Peppino Pavone E Repetto Sicuramente sono maestri Saranno in grado di andare A individuare Si parla di piccolo Si parla di altre alternative Insomma Ma siccome abbiamo due direttori sportivi Veramente bravi All'altezza E lo hanno dimostrato Nel calciomercato estivo Sicuramente saranno in grado E questo calciomercato E ho finito Sarà fondamentale Perché Se riusciremo a individuare Le pedine giuste Sarà anche un messaggio Che la Pescara Calcio Che la società Vorrà dare ai propri tifosi Per dire Noi ci chiediamo E vogliamo andare in Serie A Sì però Scusami Prego Riccardo Con questo ragionamento Rimarremo sempre Una società Di medio livello Non faremo mai Quello salto di qualità Perché se tu comunque cedi Sei mesi prima Della fine del campionato Il tuo giocatore Più forte E poi vai in Serie A Cosa fai? Devi ripartire da capo No ma loro dicono Farlo restare anche in Serie A Trovare questo tipo di accordo Ma se no Trovi uno dello stesso Ho capito Ma dove trovi una squadra Che te lo compro? Come diceva Giuseppe Lo ha fatto la Juve con il Sassu Ho capito Scusami Scusami Pensiamo che Con tutto il rispetto Per la Padula Se lo dovesse prendere La Juventus È un giocatore pronto Per andare a giocare Con Di Bala Con Morata Con quelli che hanno La Juventus Direi di no Però è un giocatore Su cui la Juventus Ecco perché io parlavo Intelligentemente I club fanno anche Delle scommesse Su una eventuale Comproprietà Con un Con una cessione Prestito con diritto Di riscatto Ci sono 10.000 modi Per poter fare queste cose Tu aiuti Punti su quel ragazzo E lo aiuti Nella crescita La Juve come ha fatto con Zazza L'ho fatto rientrare Alla Juventus E con tutto Quando gioca Fa delle buone partite Ma il campionato Ci sta dicendo Che anche lui Che ha fatto due anni Di Serie A Che gioca in nazionale Fa fatica Fa fatica a trovare L'abbiamo potuto vendere A un prezzo Comunque basso Perché poi in realtà Con Paolo Sei in disaccordo Su Cocco Cocco io credo Che comunque 19 gol L'anno scorso Non li ha fatti Per caso Quindi se Pescara Ci ha puntato Ha fatto un investimento È giusto Che continui a essere qui Non deve essere Cevuto assolutamente Credo che Con lui Comunque Anche se è entrato All'inizio Con molte difficoltà Poi sappiamo benissimo Che quando un attaccante Non segna Ha un certo nervosismo Non riesce a dare Al 100% Le proprie potenzialità Però intelligentemente Lui si è messo A servizio della squadra Cocco Cocco è stato Secondo me Molto intelligente Perché al posto Di essere egoista Su tanti palloni Ha fatto molto spazio Alla Padula Ha fatto spazio a Caprari Quindi voglio dire Se la Padula e Caprari E mi rivolgo a Paolo Hanno giocato bene Anche perché hanno fatto Perché in certe occasioni Cocco gli porta Ma Cocco non ha giocato Tutte le partite No La Padula e Caprari Hanno giocato bene Anche quando non c'era Cocco Cioè Rileggiamo bene Poi io non voglio Gettare la croce Addosso a Cocco No no Però siccome si parla Anche di un'eventuale cessione Evidentemente Questa non è una cosa Campatinaria Fantascientifica Oppure uscita fuori Questa mattina Evidentemente Credo Che questi rumors Di mercato ci sono Perché anche in società I due direttori Che hanno lavorato Non bene Ma benissimo Quest'estate Stanno facendo delle valutazioni Perché se dovesse arrivare Come mi risulta Sono arrivate Delle richieste Dal Vicenza Che vorrebbe Riprendersi Cocco Anche da domani Questo significa Però che il Pescara Potrebbe sostituire Cocco Con un altro giocatore Che probabilmente Potrebbe fare meglio Di Cocco Dalle caratteristiche Con le stesse caratteristiche E beh certo Vicenza Deve ricacciare i soldi Però Tra l'altro L'idea L'idea Però Cioè Le considerazioni A parte Poi bisognerebbe vedere Cosa vuole fare il giocatore Perché può anche darsi Che il giocatore Vada domani in società E dica Signori Mi dispiace Io Non mi trovo bene A Pescara E voglio Andare via C'è anche questa ipotesi Ogni considerazione Secondo me Dobbiamo guardarla Nella genesi Di questa situazione Il ragazzo è arrivato Praticamente All'ultimo tuffo di mercato Quando la squadra Già Dal punto di vista Tattico Benali è arrivato Dopo Cocco È un loro diverso Sì ho capito però Allora Attenzione Attenzione Il discorso di Cocco Va inquadrato In una situazione ben precisa Tu hai preso Cocco All'ultimo tuffo di mercato Ed è un giocatore Che con questo tipo di modulo Fa fatica Perché se tu oggi Dovessi prendere un giocatore Che gioca in questo In questo tipo di modulo Forse Cocco sarebbe La quinta Sesta Ottava scelta In quel momento lì Hai deciso di prendere Quel tipo Fare quel tipo di scelta Anche quel tipo di investimento Un giocatore Cocco Che va bene Giocando in una certa maniera Vicenza aveva due esterni In una certa maniera Lui aveva Dei rapporti Anche con gli altri giocatori Non aveva la mezza punta Insomma C'erano tutte delle situazioni Quindi Aspettami È arrivato È arrivato Non è stato subito utile Alla squadra Perché era infortunato Quindi la squadra Nel frattempo Con questo nuovo modulo Ha fatto Credo un altro mese Abbondante Di lavoro Quando è arrivato Non stava bene fisicamente Si è trovato Spaisato Poi Le considerazioni A livello dell'impegno Non l'impegno Questo è la cosa costosa Però in questo momento In questo momento Chi ha messo mai in discussione L'impegno di Coppa E poi il bis In questo momento Non si impegnano No ma io non dicevo Però dico In questo momento Lui Lui sta cercando Di resettare tutto E sta cercando Di rendersi utile Anche con questo modulo Cioè lui sta facendo cose Che io lo conosco Da anni Che avrei fatto Un attaccante come Cocco Giuseppe Ti aspetti gol Ma in questo momento Il Pescara ha bisogno Anche dei gol di Cocco Sì ma in questo momento Il modo di giocare No Il modo di giocare Della squadra Il gira Il centro Il centro di tutto Sono i movimenti Di La Padula Perché La Padula È nata con questa squadra E la squadra Si è abituata Alla Padula Ma noi stiamo pregando La salute calcistica E fisica Di Caprani e La Padula Che fortunatamente Sono stati sempre disponibili Ma ci sono giocatori uguali Ma capito Ti consente cose diverse Se Cocco fa un gol E si sblocca Ci porta in serie A dire No ma poi Bisogna considerare Il discorso che facevo prima Cioè Cocco La società L'ha pagato Se non erro 750 mila euro Con un contratto Adeguato Quindi Non vorrei che Tornassero Esempi Tipo Vukusic Dove la società Ci ha rimesso Circa 4 milioni di euro Nell'ottica Sì Anch'io ho sentito Questa voce Che Vicenza Però vedete C'è questo messaggio Non in rente a Cocco In rente al discorso Degli acquisti Delle eccessioni L'ultimo di Bruno Credo Maurizio Scusami L'ho letto a volo Perché Dice il tifoso È sfiduciato Se si va in A E ci leviamo i migliori Faremo le solite figure Teniamo la padula E proviamo i migliori E proviamo a salvarci Fettamente ragione La padula La padula Se se lo compro la Juve È difficile Che mi vada a giocare Insieme a Dibala Mandzukic Morate Eccetera Quindi una società Nell'ottica E siccome lì non parliamo Di una piccola società Ma sono persone Assolutamente Ma di guardare In un'ottica Di un anno e mezzo Due anni Due anni Due anni Sei mesi Tre mesi Maggiore ragione Se rimane in sedia Perché il giocatore stesso Ha una possibilità Di accrescere La sua visibilità E accrescere Anche di Sono le 21 e 42 minuti Ci fermiamo Tre minuti Poi messaggi E altre richieste Dalla regia Con i nostri ospiti A tra poco A tra poco Relax, don't do it when you wanna go to it Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19 Dal lunedì al sabato Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali Tutte le strade portano a Epica Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design A Montesilvano Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo E punto vendita ufficiale poltrona Frau È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante in via Sant'Arcangelo 120 A Teramo in via De Gasperi 45 E a Montesilvano in corso Umberto 590 Salve, sono Emilio De Florentis L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 In una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia Dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda Che a Pescara ha sede in via Spaventa nella zona dello Staglio Adriatico Alfredo e Emilio De Florentis 085-66-021 Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi A soli 3 chilometri dal mare È immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata Pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina Le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni Capaci di ospitare da 50 a 300 persone Esclusiva e magica sia di giorno che di sera Con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata Villa Fiorita, telefono 085-80-71-902 Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Adanelli è quella che fa per te Una ricca esposizione di modelli Che spaziano dalla Grande Punto alla Croma fino alla Nuova 500 Inoltre la concessionaria Fiat Adanelli Vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali La concessionaria Fiat Adanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara Con ingresso in via Raffaello 30 Sabato aperti mattina e pomeriggio La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta Da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti Consulenze assicurative e finanziarie Risarcimento danni di qualsiasi genere DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore Con filiali a Rimini e Brescia La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti Sta nascendo in Residence Magnolia Di fronte al mare appartamenti prestigiosi, classe A energetica E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore Troverai l'Isola di Zeta Feste di compleanno, feste di laurea Per ricordare i tuoi 18 anni Scegli l'Isola di Zeta Ore 21, 48 minuti Allora torniamo in regia da Andrea Costantini Come sta andando Andrea? Stanno arrivando già le prime immagini, le prime foto per questo biglietto? Assolutamente sì, assolutamente sì Grande successo della nostra iniziativa Lo ricordiamo L'immagine più bella Le vedremo mano a mano nel corso della trasmissione L'immagine più bella Votata lì dalla platea di replay Permetterà a chi l'ha inviata di vincere un biglietto per la partita Pescara-Livorno Un biglietto di tribuna Anche perché contro Livorno ci vuole il gran pubblico in questa prima di ritorno Assolutamente sì Poi Enrico, volevo segnalare Prima di vedere al limite degli SMS Questo articolo di cui ho parlato ad inizio trasmissione Juventus-Genoa c'è l'intesa per Mandragora La situazione, poi si scende all'interno con qualche altro dettaglio Con un incontro tra le parti Juventus-Genoa è procuratore del giocatore Perché appunto Mandragora viene definito Però sciogliamo subito il dubbio Perché Mandragora resterà sicuramente a Pescara fino a giugno Perché anche ieri è uscita una voce del Paris Saint Germain Interessato al giocatore dopo un accordo con il Genoa Mandragora resterà sicuramente fino a giugno Ok, possiamo andare se vuoi Enrico con alcuni SMS Sì, i primi SMS sì Prima abbiamo visto diversi messaggi di Whatsapp Ora andiamo con gli SMS più tradizionali Buonasera, secondo voi chi gioca meglio del Pescara? Scrive Sergio da Montesilvano Qual è la squadra che gioca meglio del Pescara? Vincenzo? A occhio sinceramente nessuna Giuseppe? Meglio non lo so, ma a me piace come gioca il Crotone e l'Avellino Anche l'Avellino, sì Riccardo? Protone Protone, Paolo? Protone Giovanni? Assolutamente il Crotone Il Crotone, sì Altro SMS? 37 punti e vai, quanti punti ci mancano? Massimo da Pescara Massimo da Pescara ci dà proprio lo spunto Per analizzare questa classifica al giorno dell'andata 37 punti Questo è veramente un gran bottino Qualcuno dice Potevamo essere a 40, a 41 Ecco, che chiave di lettura date a questa classifica? Paolo La classifica è ottima Io credo che insomma Quanti punti mancano secondo te? Io credo, ripeto Lo dicevo nel corso del mio primo intervento Quei due punti di Vicenza gridano ancora vendetta E Pescara avrebbe potuto tranquillamente girare a 39 Ma anche 40 punti Se noi ricordiamo quel rigore clamoroso del Menti al 95esimo Il rigore preso nella partita a Casalinga con lo Spezia Quella partita giocata malamente Un po' con troppa sufficienza all'Adriatico con la Salernitana Altri due punti persi con la Salernitana in 10 per oltre un tempo La sconfitta con la Ternana La sconfitta con la Ternana è sempre arrivata all'ultimo minuto Disse qualche settimana fa Oddo Ci mancano 3-4 punti Perché purtroppo in alcune partite abbiamo pagato la gioventù Mettendo però sul piatto della bilancia La vittoria di Como Sì, la vittoria di Como Qualche altro risultato Però se noi andiamo a vedere La vittoria col Modron un po' sofferta Ci sono delle partite Un paio di punti Io credo che un paio di punti Se restiamo dell'idea che alla fine della stagione La classifica rispecchia Quanto hai meritato Secondo me un paio di punti al Pescara mancherebbe Riccardo poi Giuseppegliano Guarda, io 37 punti Sono giusti o no? Sono assolutamente giusti Appunto per quello che dici tu Episodio a favore, episodi contro E sarei contentissimo di fare l'anti-37 Giuno di ritorno Perché sono convinto Che magari una delle due E penso più il Cagliari qualcosa Pur essendo una caurazzata ci lasci Io credo che se noi rifacciamo l'anti-37 punti Beh, con 74 Però, vista la proiezione Non so se è diretta Parlo di promozione diretta Io dico Se fai altri 37 punti Non è proprio sempre detto Che gli altri obbligatoriamente Devono rifarne altri 45 Che ci sono una 90 Insomma Io penso che 37 punti Come abbiamo detto Un termine di me è tanta roba Io sono molto contento E molto soddisfatto A 74 Comunque Comunque vada Siamo terzi o quarti Se non riusciamo a essere Addirittura secondo Però tu sai che il tifoso Adesso punta Alla promozione diretta Perché alla prima giornata Di ritorno C'è subito Corrotone Cagliari Guarda io le ho partite Le ho viste tutte E devo dirti Che non c'è stata Una squadra su una Che ha Dominato Il Pescara Abbiamo giocato Al di là degli episodi Abbiamo sempre giocato La pari con tutti Con chi può meglio Con chi un po' peggio Ma io che dirti Il Cagliari più forte del Pescara Io non te lo dico Il trotto del forte del Pescara Io non te lo dico Io ti dico Ci vediamo Giochiamo Può vincere il Cagliari Può perdere il Cagliari Contro di noi Non è detto Non vedo questa netta Ci ha perso Infatti all'andata ha perso Infatti ci ha perso No ma ti dico Non vedo questa netta supremazia Io credo che Il Girono di Vittorio Sarà molto importante Ma sarà molto importante Il mercato Ecco Giuseppe Allora Intanto sulla proiezione Dei 74 Come dice lui Ti sembra bassa Visto Il rendimento attuale Sì se devi recuperare Qualche punticino in più Lo devi fare Tenendo conto anche Che hai le prime due Casa loro E che hai In casa tua Cesena Novara Squadra che in questo momento Sono più o meno Sul tuo livello Arrivano tutte qui Ecco quindi devi Devi comunque Però le prime due Ce le hai fuori casa E lì se sei bravo E vai a vincere A Crotone Vai a vincere A Cagliari E' chiaro che qualcosina Si potrebbe Abbassare In ottica promozione Diretta 75 Bisogna alzare Tanto Barone Gli ultimi dieci giornate No ma qui parliamo Di Cagliari E Crotone No esatto Barone Agli ultimi giornate Molla come sempre Hai anche delle trasferte E di Abbastanza complicate Dove noi giochiamo meglio Eh sì però vai In campi Difficili Che magari Quando ci vai Con la Salernitana Che si deve salvare Tavellino Scusa Voglio fare una considerazione Ma anche Provercelli Un campo particolare Ma ogni partita Difficile Che noi abbiamo affrontata Con la giusta concentrazione Abbiamo vinto Noi abbiamo perso punti Nelle partite Dove abbiamo un pochino Passami il termine Sottovalutato Perché noi ogni volta Che dovevamo andare in campo Per vincere contro la grande Che siamo andati in campo Con la concentrazione giusta Abbiamo vinto Sì però Partire tipo Brescia Cesena Novara Onestamente Soprattutto Cesena Cesena non si è visto Quindi la classifica È assolutamente meritata Io non guardo i punti in più In meno Eccetera Ne vado a guardare I singoli episodi Però adesso Non mi ricordo Chi degli amici Ma lo dicevo anche io prima In questo frangente Il calcio mercato È fondamentale Perché Se la società Saprà fare un calcio mercato E far arrivare Pedine giuste Per questo tipo di gioco Che sappiamo essere Molto dispendioso Molto complesso Riusciremo Magari non arriveremo Però Vincenzo Se tu Dici che questo mercato Sarà determinante Vorrà dire che Si Si modificherà Questa squadra Invece tutti vogliono Che non si tocchi Questa squadra Senza modificarla Però sicuramente Se arrivano elementi Per completare la rosa Noi abbiamo bisogno Di come diceva Paolo Abbiamo bisogno Di un buon centrale difensivo Centrocampo Siamo a posto Perché abbiamo Senza Non credo di essere smentito Abbiamo un miglior Centrocampo Della serie B In attacco Bisognerà vedere Come la società Riuscirà a spendere E a gestire Questo movimento Di cocco Siamo la squadra Che ha segnato di più Siamo la squadra Che ha segnato di più No non siamo la squadra Che ha segnato di più Ci sono squadre Che hanno segnato Più della nostra Sì ma tu dici Per esempio Allora privarsi di cocco Perché se ti riferisci Non so No 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 Io mi riferisco Al messaggio All'input Che ci voleva far passare Al messaggio Che voleva farci passare Paolo Vuoi fare un salto di qualità Più della Padula di Caprali Se arriva un bomber Anche quella è una modifica Anche quella è una modifica Con rischio Si parlava di cocco Si parlava di un'alternativa Eh appunto Devi cedere cocco Allora vi fate un nome Di un'alternativa cocco Piccolo 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 Non dimentichiamo Le caratteristiche Piccole e le caratteristiche Di cocco Inutile al gioco Fatto da Più funzionale Al modulo di otto Sicuramente Più funzionale Facciamo un passo indietro Nel calcio mercato estivo Massimo Oddo Voleva bocci O falcinelli Che se non erro Hanno caratteristiche Si ma dopo è arrivato cocco E poi è arrivato cocco Oggi c'è cocco Oggi c'è cocco C'è cocco Io non credo che Pescara ceda cocco E prenda piccolo Ma Secondo me Prende piccolo Dando Forte Esatto Pesoli E altro Cocco per piccolo Cocco per piccolo Anche perché Enrico Anche come valore No Dimentichiamo una cosa fondamentale Che Se è stato fatto Quel tipo di investimento Appunto Valore del giocatore E in parte È stato ammortizzato Ma solo in parte In un'annualità Un terzo Un quarto Un quinto Quello che sarà Comunque Per evitare Di da un lato Fare Fare Cassa Con delle cessioni Anche prolungate Per stabilizzare Dall'altro Ti bruci tutto Con una minusvalenza Di questo genere Sei costretto a darlo via Perché a quelle cifre Non te lo ricompera Nessuno Ultimo dettaglio Devi darlo in prestito Scusami Devi darlo in prestito Oneroso A chi lo dai A qualcuno Che sta correndo con te E tu vai a dare un giocatore Il capocannoniere dell'anno scorso A una tua concorrente Esatto Quindi voglio dire Il cambio delle figurine È un conto Esatto Poi quando si cala Nella realtà Andai allora Massimo Ho già dato questo spunto Con il suo Esatto Intanto la classifica Con 37 punti Ha una proiezione Per il giorno di ritorno Un po' più alta Per la promozione diretta Questo sicuramente 40 bisogna sfondare 37 punti al ritorno Non basterà 42-43 Per concludere Comunque velocemente Il discorso Comunque anche il centrocampo Non dimentichiamoci Che Memushai I playoff Non potrà farli Perché sarà convocato Con la nazionale dell'Albania Per giocare agli europei Bisogna vedere Valotti Se il presidente Sebastiani Ha asserito Che insieme a Cocco E Mitrita Dovrebbero essere I nuovi acquisti Fra virgoletti Di gennaio Quindi forse Infatti non è un caso Che i direttori Stanno seguendo Bastian Che è un ottimo Giocatore dell'Avellino Che proprio ieri Si è messo in mostra Ha segnato Ha segnato anche Tra parentesi Zito anche dell'Avellino Ecco su questo Ecmedat Giuseppe Proprio Iaconica L'ha avuto a Brescia Diceva È forte È forte È forte Come penalì Cioè questo è un elemento Che Si è un giocatore Con caratteristiche diverse Più fisico Più centrocampista Di sostanza Ha un buon piede Una discreta visione di gioco È un regolare Però comunque Ti dà affidamento È un 95 Quindi voglio dire Stiamo parlando Di un ragazzo di 20 anni Ecco mentre la regia ci comincia A far vedere le foto Che stanno arrivando Andrea Eh sì Andrea Ci sono altri sms Che possiamo proporre Certo Possiamo continuare Possiamo riprendere La lettura dei messaggi Campagnaro Fenomeno Eh sì Ugo Campagnaro È quello che è Il giocatore del mondo Andiamo Andrea Sì Ottimo girone d'andata Complimenti a tutti Chi sono stati Il migliore e il peggiore Tra i giocatori Scrive Andrea Volevo fare un giochino Allora Il migliore e il peggiore Tra i giocatori Il peggiore Tra virgolette Del Pescara Il migliore La padula Campagnaro Peggiore nessuno Eh dai Uno che ti aspettavi Qualcosa in più Valotti Valotti Giuseppe Sì forse Valotti Non per colpa sua Perché si è trovato In un modulo Il migliore Il migliore Insieme con Certamente la padula Metterebbe Nali Ah che bene Paolo Ma la padula Sicuramente il migliore Non mi dire cocco Diciamo valotti Diciamo valotti Ma allora Ex equo valotti cocco Vincenzo La padula Ma io metterei anche Caprari Perché sicuramente Rispetto all'anno scorso Massimo è stato bravo A rivitalizzarlo Il peggiore Visse le sue enormi potenziali Tecniche Valotti Sicuramente Sono d'accordo La padula Caprari Perché Caprari Finalmente Stando il meglio Delle sue potenzialità Ovviamente Valotti Ha tanta tecnica Ma non ho visto Per quelle poche volte Ha giocato poco Sì Abbiamo il prossimo Pescara da Serie A Grande Oddo Resterà anche il prossimo anno Scrive Francesco Da Francavilla Anche questo è un argomento Che Si dovrebbe Che dici Riccardo che lo conosce Assolutamente sì L'uomo biennale Come contratto Ma per me assolutamente sì Sia che Come Succederà Quella cosa Che non si dice E quindi lui Giustamente Guiderà Sia in tutti e due i casi Tu Giuseppe Hai queste certezze? No Certezze no Per quanto sia Credo verosimilmente Così ci ha tensionato Anche da Da club di Serie A Perché Sta dando un'impronta Diversa Molto personale Dal suo modo di gestire Credo che Faccia parte Di quella sorta Di investimento Da qui a 18 mesi Se non 24 Su cui il Pescara Sicuramente Deve puntare Paolo Ma è un allenatore Destinato A fare Il grande salto Nella massima serie Entro Un breve tempo Mi auguro Che lo faccia Lo faccia Con la maglia bianca azzurra Però Ha la stoffa Ha la personalità Ha le capacità tecniche Per poter In A Potrebbe restare In B Qualche dubbio E credo Se dovesse Se dovesse arrivare Qualche richiesta Insomma A quel punto Oddo Però Oddo Ha anche L'umiltà E l'attenzione Di Di Saper aspettare Il suo momento Non lo vedo Come Un Lo vedo Come Un Giovane Un Esordiente Come lo vogliamo Chiamare Così Però Non uno Di Quelli Che si Butta Nelle Situazioni A grossa Umiltà Ragazzi Un Un Offertona Da Un Perlusca Il progetto Non l'offertona Il progetto Il progetto Il progetto Non l'offertona Perché l'offertona È una cosa Che ti frutta così Il progetto Anche tu Vincenzo Sei dello stesso avviso Sono assolutamente d'accordo Se succederà quella cosa Probabilmente rimarrà Anzi sicuramente rimarrà Se quella cosa Non dovesse avvenire Credo che Lo sai questa Andrea Che da lontano Non vediamo bene Sì è un Telespettatore Che ci ha mandato Questa foto Serie B Anno 87 Olimpico di Roma Lazio Pescara I Rangers In trasferta Bei ricordi Buon anno a tutti Da Italo E sempre Forza Pescara Buon anno anche a Italo Un bel ricordo Allora vediamo se Buon anno fatto il terzo tempo Quei tifosi Si immagina No no Chissà siano fatti due tempi Allora un altro messaggio Andrea Se avessimo avuto Campagnaro Per 15 partite Almeno saremmo primi o secondi Che ne dite In fondo ci mancava Esperienza e cattiveria Ecco qualcuno oggi Mi chiedeva Come può Campagnaro Giocare tre partite In una settimana Senza poi Allenarsi tanto Saltare Per due mesi Che succede Lui ha questo Problemino Problemino Al polpaccio Però quando c'è Può fare anche tre partite In una settimana Ha un fisico Che gli permette Di avere questo Io credo che al di là Del fisico Un ragazzo che si sa gestire Che ha imparato Ovviamente a sentire Il proprio corpo Quindi sa fin dove può arrivare Dove non può arrivare Eccetera Quindi stiamo parlando Di un giocatore Che io Dico che lui Ha il campanellino Nel senso che Dove non arriva lui E già sa dove finisce la palla Dal campanellino E sveglia qualcuno Per andare Ed è quello Il vero salto Di qualità Al di là di quello Che fa lui E quello che costringe Tra virgolette A fare gli altri Cioè a stare attenti Ad andare Non più Sull'istinto Cioè a fianco a lui Può giocare Chiunque Anche Riccardo Per esempio Perché costringe Chi gioca a fianco a lui A fare delle cose Che magari Quello stesso Non farebbe Questo Francesco Marchionno Scusa sta scrivendo Castaldo a pescare A cocco all'avellino Ci faresti tu Paolo No ma secondo me Non ci fa l'avellino Sono uguali Paolo tu ci faresti Paolo ti gioca Sono uguali Sono uguali Ma Castaldo Mi sembra che Castaldo Insomma sia Ma lo metti qui a giocare Con questo modo E' come cocco Cioè quelli sono giocatori Che hanno fatto modo di giocare Però qualche gol L'ha fatto Sì ma lascia perdere Anzi mi risulta Che da quando è terminata La squalifica E' tornato Castaldo a giocare L'avellino abbia vinto Cinque partiti Mi risulta Ma io ne discuto Nessuno di tutti i tuoi giocatori Però E segna ogni partita E segna ogni partita Ma questa sera Discutiamo anche I numeri dei giocatori E' bello E' bello Questo Castaldo Castaldo è Un buon giocatore Ma sarebbe un giocatore Se arrivasse a gennaio Sarebbe avulso da tutto Perché Sia per caratteristiche Che personalità Perché lui comunque è un leader Arriverebbe in una squadra Dove ci sono già Dei propri equilibri E dove Cocco è inserito E poi io non capisco Perché voi non tradiate in Cocco Io Credo che Cocco Sarà l'arma in più Del Girona Sarà un bel lieto Di rimangiarmi Quello che ho detto Fai un club Cocco E vediamo Quante persone Cocco Allora io ti dico una cosa Io divido i giocatori in due Quelli che si impegnano E quelli che mi fanno arrabbiare Cocco è uno Che in campo Dà l'anima E' solamente stato Un po' sfortunato Un palo interno Un gol Può avere In fuori gioco Ma c'ha l'impegno E addirittura Se tu rivedi Il rallentatore Lui segna Sull'uscita del portiere Non guardando Quindi mettendoci anche Senza paura Ma chi non si impegna Nel Pescara Scusa Dove vuoi arrivare Voglio arrivare Quest'anno Non mi sembra Che ci siano giocatori Quest'anno Nessuno E infatti In stagioni precedenti Te ne dico Fiorfiori I giocatori Che sono venuti a Pescara Che mi facevano arrabbiare Non si impegnavano Ma tanti Era appunto lì Su Castaldo Per cui ci siamo accalorati Navellino Come se Dovesse perdere Anche Trotta Sicuramente Non potrà Chiaro Intanto Ringraziamo tutti coloro Che ci continuano A mandare foto Andrea Leggiamo Altri due messaggi Poi andiamo in pubblicità Certo Il Pescara Di quest'anno È più forte Di quello di Baroni Scrive Enrico Dapopoli Il Pescara Di quest'anno È più forte Di quello Dello scorso anno Vincenzo Meno forte All'inizio Ma può diventare Più forte Di quello di Baroni Perché immagini Di crescita Sono ovviamente Più alti Giovanni È più forte Questo Pescara No Secondo me Abbiamo una squadra Qualitativamente Certo Noi giudichiamo il Pescara Baroni Alla fine della stagione Quindi quando erano esplosi Biarrasol Melchiorri Probabilmente Ai nastri di partenza Esatto È la stessa cosa C'era più forte Nel scorso anno No perché Abbiamo giocatori Magari Adesso la squadra È più forte Proprio come collettivo Assolutamente Io sono da conoscenza Giuseppe Sentendo Qualcuno in società Non sono tutti Dello stesso Perché parlano Del giovane Che in prospettiva Può diventare più forte La domanda è Il Pescara Di Baroni Era più forte Di quello di adesso Sì Perché Perché il Pescara Di Baroni Aveva alcuni giocatori Che avevano già Una maturazione Della categoria Se non altro Di un altro anno Qui invece A Oddo Gli è stata affidata Una squadra Ricostruita Con giocatori Che venivano Da esperienze diverse Anche nell'impatto Con l'ambiente Nell'impatto Con il modulo Senti Giuseppe Ma se ti faccio Questa domanda Il grande Pescara Di Zeman Che alla fine Il giorno di andata Aveva 39 punti Era più forte Assolutamente sì Però aveva soltanto Due punti in più Sì Allora È chiaro che Poi ogni campionato Ha delle dinamiche particolari Il punto Sì Cioè io credo Che più che i punti Bisogna capire Anche in che contesto Si va ad operare Però Il Zeman ci dice Che al di là Della vittoria Poi finale Della stagione E cioè Da quel Pescara E in questo periodo Ci sono giocatori Che sono andati Di Zeman Perché vi ricordate In queste cinque partite Consecutive La squadra di Zeman Alla fine Aveva 4 nazionali Che sono state Di serie A Perché immobili Insegne Voglio dire Quindi Può darsi Che questo Pescara Abbia delle nazionali Ma Dragora Quello che ti voglio dire Non paragonando Questo Pescara A quello di Zeman Ma rispondendo A domanda A quella di Baroni Io ti dico Che questa è più squadra Perché ha un manico diverso Quindi questa squadra Gira meglio E alla fine Ci darà sicuramente Più soddisfazione E poi c'è Una differenza sostanziale Questa gioca A casa Sì ma Enrico Come giustamente Dicevi tu Parliamo Dell'inizio Campionato Inizio campionato Di Zeman Immobili Insigne Chi li conosceva Ma anche In questo periodo Se vi ricordate Il Pescara Riuscì a vincere Una partita difficile Con una punizione Di Togni Contro il Catania Era un momento di crisi C'era stagione A gennaio Si accentuò la crisi Il periodo della neve Poi C'è stata l'esplosione Quando gli disse Da fine febbraio In poi Qualche golletto Su punizione Questo Pescara manca Manca sì Qualche golletto Su punizione L'ultimo messaggio Andrei Pubblicità poi Sì Andiamo Con l'ultimo messaggio Quando agganceremo Il Crotone A febbraio Vincendo in Calabria Che dite Paolo Speriamo Speriamo Quella sarà una partita Tutti puntano il Crotone Perché il Caglio Beh sì Il Crotone È sicuramente Una squadra più abbordabile Rispetto al Catania Io vi rivedevo Le immagini Della partita Di Chiavari con Lentella Ha vinto Ma ha anche sofferto Con una formazione Che qui a Pescara Non aveva mai tirato in porto In 90 minuti Bene Andiamo in pubblicità Poi torneremo Per l'ultima fase Della trasmissione A tra poco Per l'ultima fase Epica Un poema di tecnologia avanzata Per la tua casa Ceramiche Idrotermosanitari Condizionamento Arredamento Materiali edili Epica Il nostro mito Sei tu Per venire incontro alle tue esigenze A Pescara e zona aeroporto Via Fosso Cavone Nel nuovo showroom Di oltre 1000 metri quadrati Epica ti aspetta Con orario continuato Dalle 9 alle 19 Dal lunedì Al sabato Nel punto vendita di Chieti Abbiamo ampliato la sala esposizione Con porte e finestre Epica Cambielli Group Leader in Italia Con 180 filiali Tutte le strade Portano a Epica Le linee e le tendenze Mutano con il passare del tempo Cogliere i cambiamenti Soddisfare le nuove esigenze Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti Il riferimento nel mondo Dell'interior design A Montesilvano Di Paolo Arredamenti È esposizione di elementi d'arredo È punto vendita ufficiale Poltrona Frau È un mondo dedicato Alla comodità E alla qualità che solo un grande marchio può darti Di Paolo Arredamenti Ti aspetta a Bellante In via Sant'Arcangelo 120 A Teramo In via De Gasperi 45 E a Montesilvano In corso Umberto 590 Salve Sono Emilio De Florentis L'impresa funebre della nostra famiglia Nasce nel 1945 In una piccola bottega artigiana Nel cuore di Pescara Vecchia Dall'intuizione di mio nonno Emilio E di suo padre Emilio Da quel momento Da 68 anni La tradizione prosegue E dal 1995 Io e mio padre Alfredo Abbiamo aperto una nostra azienda Che a Pescara Ha sede in via Spaventa Nella zona dello Staglio Adriatico Alfredo e Emilio De Florentis 085 66 021 Villa Fiorita Un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi A soli 3 chilometri dal mare E immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata Pronta ad accogliervi con il suo grande parco La sua piscina Le ampie terrazze E i suoi meravigliosi saloni Capaci di ospitare da 50 a 300 persone Esclusiva e magica Sia di giorno che di sera Con le sue luci da fiaba Per un'atmosfera incantata Villa Fiorita Telefono 085 80 71 902 La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta Da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti Consulenze assicurative e finanziarie Risarcimento danni di qualsiasi genere DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore Con filiali a Rimini e Brescia La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti Sta nascendo il Residence Magnolia Di fronte al mare appartamenti prestigiosi, classe A energetica E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore Troverai l'Isola di Zeta Feste di compleanno, feste di laurea Per ricordare i tuoi 18 anni Scegli l'Isola di Zeta Benvenuti a bordo del gruppo Valtour Sena Eurolines Azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni Trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno Consulta il sito www.baltour.it E compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro Balthour, Sena ed Eurolines Ti augurano un buon viaggio Ora 22 e 17 minuti Allora ultima fase della trasmissione Prima di ridare la linea Andrea Costantini Volevo un attimo coinvolgere Vincenzo Cilli per il discorso Pegasus E Giovanni De Palma Per sapere ovviamente Le previsioni del tempo Per questo fine d'anno Perché molti dovranno andare fuori Dovranno uscire Quindi intanto Vincenzo Sul discorso Ah, salutiamo Valeria De Carlis Che dice a questa pescara Manca solo il pubblico Ha ragione perché il gran pubblico Reciterà un ruolo di primo piano Iniziative della Pegasus Sempre legate al mondo dello sport D'altronde tutti i tesserati Possono essere coinvolti L'università Pegaso Nasce nel 2006 Quindi il titolo rilasciato Dall'università È assolutamente equipollente A qualsiasi laurea Conseguita in atenei pubblici E a Pescara È stata istituita Grazie al professor Paolone Che è il rettore vicario Del Pegaso In rapporto con Il mondo sportivo Visto che è stata fatta Un accordo quadro Una convenzione Sia con la FGC regionale Che con la WISP Tutti i tesserati Delle società sportive Calcistiche Ma non solo Visto che abbiamo Facoltà anche tipo Scienze motorie C'è la specialistica Di menaggimento Non solo calcio Ma anche altri settori Altre discipline sportive Abbiamo la specialistica Dicevo di menaggimento Dello sport Oltre giurisprudenza Economia Abbiamo 111 master Quindi tutti i tesserati Hanno diritto a condizioni Sia dal punto di vista economico Sia dal punto di vista didattico Faccio soltanto un esempio Il professor Paolone Oltre ai nuovi corsi di laurea Ha istituito dei corsi Con indirizzi ad hoc Sulla base di La facoltà triennale Di economia Ad esempio Il corso da operatore sportivo Quindi State avendo una buona risposta Perché già Assolutamente sì Nonostante il periodo Però Molti italiani Molti sportivi Hanno compreso Che essere specializzati Sicuramente Ha della Alta produttività Acquisire delle conoscenze Delle competenze Specifiche Offre la possibilità Di avere degli sbocchi Professionali Una volta terminata Ecco a chi si devono rivolgere Questi tesserati Alla sede Della Pegaso In Via Rebovio 79 Oppure possono parlare Direttamente con me Perché insomma Sono molto conosciuto Ovviamente ci occupiamo Non solo di Immatricolazioni Ma anche di Riconoscimento Crediti per coloro Che sono iscritti E vengono da altri Atenei Bene Intanto Ringraziamo I tifosi Che stanno continuando A mandare immagini Soprattutto della curva Giovanni Intanto Bruno Pescarese Reinaldi Questo Questo lo conosco Sì Rispondendo Chi sta intervistando Questo Giovanno Si è una foto vecchia Non lo so Perché devo rispondere In prima persona Chissà Se non era Il papà Di Bruno Reinaldi Il dottor Reinaldi Perché sono passati Forse 30-40 anni Quindi Saluto intanto Bruno Reinaldi Grazie Giovanni Previsioni del tempo Per questo Fine d'anno Ma guarda Purtroppo Ci mancherebbe Poi ho letto anche un messaggio In sovrimpressione Di un telespettatore Che chiedeva appunto Quando arriva il freddo Per il momento Non arriva il freddo A giugno Per il momento Non arriva il freddo E ancora fino a fine anno Saremmo interessati Dall'alta pressione Che ci porta La nebbia Ma anche Ovviamente L'aria che è ricca Purtroppo Di inquinanti Quindi Soprattutto nei centri urbani Purtroppo non cambierà Fino a fine anno Quando cambierà Da capodanno L'alta pressione Inizierà fortunatamente Dico accedere E ciò Lascerà spazio All'arrivo Di perturbazioni Che probabilmente Favoriranno Soprattutto Il rimescolamento Delle masse d'aria E forse anche Qualche precipitazione Soprattutto Tra sabato e domenica Insomma Questa è una buona notizia In chiave Inquinamento Perché ovviamente Molte città italiane Del centro nord Sono alle prese Con dei valori Di PM2.5 PM10 Ben al di sopra Dei limiti di sicurezza Quindi ben vengano Questi peggioramenti Ma il freddo Per il momento Sta lontano Sarà lontano Una curiosità Ma tu sei più appassionato Di calcio Di pescara Oppure della tua Chiamiamo la professione Io sono appassionato Del pescara Anzitutto Poi c'è la passione Per la metodologia Sono vanno insieme Ovviamente Con i consigli del caso Anche quando c'è il maltempo Cerco di avvisare Ti chiamiamo tutti Per sapere Se giocheranno O non si giocheranno Il campo è pesante No Uno si scherza Ma è fondamentale E' importante Anche perché Tante volte I giocatori che entrano Con delle calcio Ricordo che con Giovanni Scusa Enrico Parlammo il giorno prima Perché io feci La segna stampa Della partita di Novara E lui mi disse Domani c'è rischio Di nebbia a Novara Si potrebbe non giocare A Novara non si è giocato Potevi avvisarci Non facciamo il viaggio a vuoto A Novara Paolo Su queste foto Dei tifogli Aveste creduto Sulla Eh Ma no Io volevo un attimo Parlare proprio di questo E mi riallaccio anche A quel messaggio Di Valerio De Cano Tu prima parlavi Del voto Dell'aggettivo Che potevamo E volevamo dare Al Pescara Io invece Purtroppo Darei un voto basso Non ai tifosi Del Pescara Quelli che vanno Sempre Quando le cose vanno bene E quando le cose vanno male Allo stadio Darei un voto molto basso Alla città di Pescara Perché Quest'anno Sta seguendo Con minor passione La squadra È una squadra Che meriterebbe Di giocare Non dico in uno stadio pieno Ma sicuramente Con una cornice Di pubblico maggiore Lo scorso anno Il Pescara di Baroni Mi dispiace dirlo Ma giocava un calcio Poco spettacolare Ma poteva contare Su un pubblico Numericamente superiore A quello di quest'anno Quest'anno Il Pescara Gioca a calcio Purtroppo gioca Dinanzi A pochi spettatori E questa è una cosa Che dispiace Perché Pescara Purtroppo Non è abituata A Il Pescara Non era abituato A giocare In uno stadio Siamo un po' Tutti d'accordo Con questa analisi Perché questa squadra Meriterebbe Un pubblico Più Più caloroso Più numeroso Il ringraziamento Va a coloro Che ovviamente Vanno allo stadio Soprattutto in trasferta Andrea Vogliamo andare Con gli ultimi messaggi Tra poco verrà premiata Certo Ultima trance di messaggi Subito Non mi aveva colpito L'arrivo di Ben Ali Ma è fortissimo E nelle ultime partite Soprattutto Ha fatto grandi cose Tutti d'accordo Dunque Su Ben Ali Giuseppe Abbiamo ancora visto Verre Ai suoi livelli Perché Tu dici Può fare molto di più Verre A corrente alternata Secondo me Ancora non Non entra in alcuni Ieri c'era il LCT Dell'Andal 21 Di Piaggio Che lo sta monitorando Settimanalmente Secondo me Secondo me Un giocatore Lui Già pronto per la Serie A Però chiaramente In questa stagione Ancora non è lui Veramente Andrea Il prossimo Andrea Cocco Come Andrea Prunecchi 1976 40 anni fa Con un gol In semi rovesciata Alla spalla Sotto la curva sud Cominciò a segnare Verso la prima Serie A Di Cadè Firmato Antonio Recanati E bravo Andrea Ha azzeccato tutto La curva La partita Fece il giro di campo Dopo il gol E poi diventò Capocannoniere È fondamentale Però un attaccante Che non trova il gol È nervoso Non riesce a rendere Quello che potrebbe Quindi Con il gol Probabilmente Il livello psicologico Per un attaccante È fondamentale Secondo me Se riesce a fare Il primo gol Io glielo auguro E si sblocca Vedremo tante noci di cocco Secondo me Ancora Andrea La promozione quest'anno Sarà sui 76 78 punti E questi punti Si fanno In 42 partite Quindi cari criticoni Venite allo stadio Non vi presentate a maggio Scrive Stefano Paolo Un po' il senso Del tuo discorso Sì sì Chiaro A Pescara A Pescara di quest'anno Mancano credo 3, 4 Anche 5 mila Spettatori In più Rispetto a quelli Che normalmente vanno Perché la squadra Gioca davvero Un calcio piacevole Peccato Non vedere tanta gente Allo stadio Che poi tra l'altro A livello meteorologico C'è l'alta pressione Quindi bisogna andare Allo stadio Dai diciamo questo Andrea Sì Ciò di cui mi sento certo È dell'improvvisazione È del vivere la giornata Della solietà Senza una seria programmazione Il progetto è tale Solo se Non si tratta di aria È giorno per giorno Né comprovi la realizzazione Il tutto a prescindere Dalla categoria Dal 2011-2012 Continuiamo a vivere L'assenza di un progetto serio Ecco ci mancava Il criticone di turno Dal 2011-2012 Il Pescara ha fatto Tre campionate di B Ad altissimo livello Poi la parola progetto Comprende tante cose Ma al tifoso Interessa solo la classifica La squadra che Riesce a essere competitiva Se si tratta o no Di un progetto tecnico Non è detto che sia legato Soltanto alla conferma Della stessa squadra Degli stessi giocatori Oggi fare calcio È difficile un po' Per tutti E allora Questo Pescara Che da anni D'eccezione ovviamente Il campionato di Serie A Sta regalando soddisfazioni Ai propri tifosi Non credo che Possa essere criticato Parlo come gruppo Societario Squadra Tecnico E poi Arriva il criticone di turno Che non si accontenta mai Va bene Si accettano le critiche Però qui si sta Un po' Se non sbaglio Il Pescara è stata la squadra Che nell'anno solare Ha fatto più punti Significa due stagioni E se le fai senza Programmazioni Senza così Tirando alla giornata Credo che sia Un filino complicato Si è fatto più gol Nell'anno solare Sì Quindi è complicato Se c'è una programmazione Giorno per giorno Riuscirci Anche perché non è Una stagione Che ti può riusci bene Chissà se questa Prima E questa qua Ancora Antonio Sì Andiamo con Ottimismo Con l'ultimo messaggio Bravo il dottor Clinqua Ha fotografato E spiegato con esempi Concreti La mia idea Sulla mancanza Di progetto Ah Hai parlato Di mancanza Di progetto E lei E lei è il dottor Clinqua Io sì Messaggio è per lei Lo rileggiamo Lo rileggiamo Andrea Bravo il dottor Clinqua Ha fotografato E spiegato con esempi Concreti La mia idea Sulla mancanza Di progetto Macchinetta Un film Forza Con che le fai Le fotografie Non so cosa dire Non sai cosa dire Non sei d'accordo Con questo messaggio Non lo capisco Vale C'è un progetto Comunque Certo Andrea Quanti ne abbiamo ancora Ok Va bene Cominiamo Finito qui Allora Siamo arrivati alle 22 28 minuti Ti avrei equivocato Il tifoso Era d'accordo con te Che hai fotografato La situazione E la mancanza Del progetto Quindi secondo il tifoso Tu hai parlato Di una mancanza Di progetto Nel pescario Ma secondo te Ho parlato Di una mancanza Ho capito Ma devi rispondere tu Non posso rispondere io Ma non è La sera qua No No assolutamente no Anzi Mi sembra Esatto contrario Questo volevo farti dire Giuseppe Prima che ci lasciamo Devo farti una domanda Su un personaggio Che ha portato Il nome dell'Abruzzo No A livello eccezionale Parliamo del dottor Gabriele Gravina Che è stato un po' Tuo padre A livello calcistico Con lui le soddisfazioni Più belle Una grande soddisfazione Per l'Abruzzo Per tutti i tifosi Del calcio E ovviamente Mi piacerebbe Che tu Spendessi due parole Proprio su Gravina Assolutamente Credo che In questo momento Sia visto E a giusta ragione Come Un'ancora di salvezza Un po' un uomo nuovo Che può riuscire a dare Un qualcosa Un qualcosa di diverso Non solo alla Lega Pro Che ne ha tanto bisogno Ma anche al sistema calcio Si è Ha ottenuto Questo grandissimo risultato Andando un po' Contro tutto e tutti Lo ha fatto Presentando Un'idea chiara Di quella che è La Lega Pro Di quello che è il sistema Basandosi soprattutto Su quello Di cui i presidenti Hanno bisogno Cioè i valori La sostenibilità La gestione di queste società Che è complicatissimo In un momento Terribile Lui È nel mondo Del calcio Da anni Ha fatto tanto Sia da presidente Che anche da dirigente Credo che In questo momento Abbia dimostrato Di avere Le idee chiare Nonostante Nonostante ci sia stata Una forte contrapposizione Il risultato che ha ottenuto Ha dimostrato Che sicuramente A lui Sono legate Le speranze Di rinascita Di questa categoria Ha bisogno Di un grande In bocca al lupo Perché ci sarà Tanto Tanto da lavorare E sicuramente Saprà Saprà fare Il meglio Possibile Questo studio I complimenti Al nuovo presidente Della Lega Pro Gabriele Gravina Che è anche Un tifoso Del Pescarlo Vediamo spesso La nostra città Lo stadio E quindi Gli facciamo veramente Il nostro più sincero In bocca al lupo Allora Andrea È giunto il momento Di premiare Il tifoso Che ha inviato La foto più caratteristica Verrà premiato Con il biglietto Di tribuna Per la partita Pescara-Livorno Che potrà ritirare Il giorno prima Qui a TV6 Ecco Ho fatto Un rapido giro D'orizzonti Con i nostri ospiti Ha colpito Un po' tutti Quella foto Della partita Lazio-Pescara Di 30 anni fa E vediamo Se Maurizio Da qui riesce A ritrovarla Eccola qui Era l'anno 87 all'Olimpico Di Roma Lazio-Pescara I Rangers In trasferta Beh ricordi Buon anno a tutti Va bene Da Italy Sempre a Forza Pescara Abbiamo premiato questa Perché? Perché proprio Non è digitale innanzitutto Ma ci mancherebbe Una foto storica Per la rivalità Con la Lazio I Rangers Che hanno sfidato I tifosi Bianco-Celesti Di Roma All'Olimpico Quindi Ringraziamo Italo Italo Verrà qui A TV6 Il giorno prima Di Pescara-Livorno E avrà il biglietto Per essere in tribuna Anche forse Si trovava Più a suo agio In un settore Quella cura Premiamo Italo Premiamo tutti L'Angelo Certo Certo Che ci sono sempre Ci saranno sempre Allora siamo arrivati Proprio alle battute finali Si chiude questo 2015 Andrea abbiamo completato Un'indicazione Per controprova Italo Di rispedire Il messaggio Con la foto E anche con il numero Di telefono Lo contatteremo Lo contatteremo E gli diremo Appunto ulteriormente Di essere qui Il giorno prima della partita Per il ritiro In pochi secondi Cosa vi aspettate A questo 2016 Calcistico Giovanni Innanzitutto La conferma Di quello che è stato fatto Fino adesso Con la speranza Di aumentare anche i punti Nel giorno del ritorno Solo 40 punti Nel giorno del ritorno Perché ce ne mancano 2-3 come diceva lui Quindi bisogna farle Io Una cosa velocissima Mi sono dimenticato Prima di dire Una cosa importante Quindi gli esami Si faranno anche all'Aurum Abbiamo fatto un accordo Con il comune di Pescara Quindi abbiamo preso Una sede All'interno dell'Aurum Quindi gli esami Si potranno svolgere All'Aurum E abbiamo come zone Di competenza Da Bologna a Bari Quindi questo discorso Divolto a tutte le società sportive Non solo a Bruzzesi Dal prossimo anno Mi aspetto Play-off sicuri Per Pescara Play-off Diciamo terzo Quarto posto Perché sono play-off E play-off Perché il Cagliari Farà un campionato a parte Potremmo lottare Eventualmente Per il secondo posto Ma bisogna vedere Il discorso Del calciomercato E Cocco Paolo Come dice Paolo Io mi auguro Che Pescara Possa fare 43 punti Il giorno del ritorno Altri 43 punti 43 punti Da uniti ai 37 80 Fare 80 Con Cocco senza 80 Non importa L'importante è fare 43 punti Giuseppe Spero Spero che questa squadra Continui la crescita Perché Non è ancora espressa Al meglio Non si è espresso al meglio Anche l'allenatore Che credo che abbia Ancora ulteriori potenzialità Quindi Continuare in questa crescita Significa Fare bene Adesso i 42 43 Credo che Continuando Se ne vedranno Delle belle Se continua a crescere Riccardo Quindi Oddo Farà meglio di Oddo Dell'anno scorso Spero Credo di sì Auguro a tutti Buon anno Che il 2016 Porti veramente Qualcosa di buono Ma sono certo Che con questo gruppo Ci divertiremo Bene Vi ringrazio Vi auguro Buon anno Grazie Andrea Costantini In Regia Ciao e buon anno a tutti Grazie a Maurizio D'Aguira Tutto lo staff tecnico Di TV6 Noi saremo qui Anche lunedì prossimo Quindi nel periodo Dove il campionato E' fermo Le austerità riprenderanno Il 16 di gennaio Ma saremo qui Ogni lunedì Per aggiornarvi Anche sulle situazioni Di mercato Mercato che quest'anno Si chiuderà Il 3 febbraio O il 2 Il 3 febbraio Giuseppe Il 2 Il 2 Il 4 al 2 Hai ragione Il 2 febbraio 2016 Buon anno a tutti Ci vedremo lunedì prossimo Grazie per averci scelto Grazie a tutti Serie B con te.it Il campionato degli italiani